Lassi Youtube questo, possiamo salutare? Certo! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, guarda il prato, tagliate! Bravissimi, chi l'ha tagliato? Noi, noi! Chi è che è stato? Noi! Tutti! Tutti noi! Bravi, bravi! Buonasera! Sera, ciao ciao! No, allora... Sì, è quello che devono fare, sia delle frecciette che del coso. Sì, è delle frecciette non lo so. Le frecciette? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Nic! Abri attenti, devo apposta a questo. Per te? Per te! Per te! Bisogno! 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 Sì! Non lo so. No, non lo so. Non lo so. Un po' sì. Ma bene che sta andando... ... Grazie a tutti. 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 Vai. Buonasera. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e... a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. bravo. Allora. e...